nell'anno 568 i longobardi calano in italia che si sia trattato di un'invasione vera e propria oppure forse di un patto di fedus non rispettato comunque finito male non si ha ancora di certezza ad ogni modo da quando i longobardi entrano in italia rimarranno pressoché stabilmente in guerra con i romani per quasi due secoli almeno nel nord italia e questo nonostante ci sia stato anche un rapporto a volte collaborativo tra alcuni gruppi di longobardi o alcuni individui rispetto all'impero romano e tra questi longobardi c'è il guerriero di cui andiamo a parlare nella puntata di oggi droctulfo ciao a tutti io sono mattia caprioli e bentornati su tribunus tornando al rapporto quando esistente collaborativo tra i longobardi e romani pur quando nella maggior parte dei casi sono nemici dichiarati dalle fonti sappiamo per esempio di un gran numero di guerrieri longobardi che vengono reclutati e impiegati in siria durante le campagne del cesare futuro imperatore tiberio costantino tra 574 e 576 contro i persiani sassanidi a causa della guerra in persia era estremamente complicato inviare rinforze in italia il cui territorio veniva giorno per giorno eroso dai nuovi conquistatori tuttavia terminata la guerra in oriente tiberio costantino reputò che fosse il momento per la riscossa da uno dei longobardi anche perché questi stavano attraversando un periodo senza alcun re conosciuto come periodo dei duchi o interregno longobardo il territorio del regnum longobardorum era diviso in 35 ducati che in questo periodo agivano come entità pressoché autonome questo lungo periodo di interregno durò dieci anni dal 574 al 584 e così nel 576 venne inviato in italia l'ultimo contingente da costantinopoli destinato alla lotta contro i longobardi perché diciamo l'ultimo perché nel corso degli anni molto raramente se non alla fine mai per via delle guerre aperte su praticamente tutti i fronti nell'ultima parte del sesto secolo sarà impossibile inviare veri eserciti di rinforzo o di spedizione comunque sia in italia possiamo solo supporre che a volte ci fossero dei contingenti armati al seguito degli esarchi che man mano andavano a prendere il posto del loro predecessore comunque sia come dicevamo nel 576 viene inviata questa spedizione al comando del curo palates baduario quest'ultimo è assai probabile che avesse con sé tra l'altro molti dei longobardi che avevano combattuto con i romani in siria nei due anni precedenti nella campagna di baduario non sappiamo sostanzialmente nulla se non il suo esito disastroso esercito romano viene sconfitto e baduario perde la vita in un modo a noi totalmente ignoto sappiamo soltanto che morirà dopo una battaglia svoltasi da qualche parte in pianura padana qualche tempo dopo e forse proprio in seguito alla sconfitta di baduario il duca longobardo faro aldo che sarà il futuro duca di spoleto saccheggia e conquista il porto di classe poco distante dalla venna del resto è il porto della la venna i longobardi così tengono in scacco anche il principale centro amministrativo imperiale in italia insomma la situazione dei romani nel giro di poco è drasticamente peggiorata ed è esattamente in questo clima di caos che fa la sua comparsa un personaggio che è forse uno dei più interessanti affascinanti dell'italia di quel periodo ovvero droctulfo non sappiamo praticamente nulla delle origini di droctulfo se non quanto ci riporta l'unica fonte che ci racconta di lui o meglio l'unica fonte che ci fanno di tratto della sua vita che è paolo di acono il grande storico dei longobardi riporta l'epitafio di droctulfo a ravenna che oggi è perduto e aggiunge alcuni particolari a questo epitafio come veniamo a sapere dall'epitafio stesso l'aspetto di droctulfo è quello che ci aspetteremmo per un barbaro dell'epoca in quanto come riportava l'iscrizione il volto era tremendo nell'aspetto la sua barba fu lunga sul petto robusto una descrizione che però contrasta con quello che doveva essere il suo carattere almeno agli occhi dei romani poiché viene descritto come di animo buono nelle fonti di lingua latina e greca è curioso poi notare come droctulfo sia noto come drocton infatti nell'epitafio è chiamato proprio così non è del resto difficile immaginare che per i romani il nome di droctulfo con la sua pronuncia originale che deve essere stato qualcosa di molto simile a troctulfo risultasse molto difficile da pronunciare molto estraneo a tal punto da adattarlo alla loro lingua questa è una cosa che tra l'altro nelle fonti antiche si nota fatta moltissimo l'epitafio ci dice che droctulfo non era tra l'altro in realtà di origine longobarda come riporta poi anche paolo diacono ma sveva e sarebbe cresciuto tra i longobardi da questo dato paolo diacono ci fornisce qualche informazione in più che però è abbastanza oscura in realtà e che è stato oggetto di interpretazione dei poco contrastanti così paolo diacono questo duca era originario del popolo degli svevi e precisamente della gente alemanna ma era stato allevato in mezzo ai longobardi e poiché ne aveva tutte le qualità era giunto fino alla dignità di duca ma come trovò l'occasione di vendicarsi della prigionia subita si sollevò contro i longobardi ora l'interpretazione più ovvia di questo passo sarebbe immaginare un giovane droctulfo quale prigioniero di guerre dei longobardi che grazie ad azioni a noi ignote si sia guadagnato la libertà addirittura sorgendo poi al rango di duca questo potremmo supporto dal fatto che la parola che usa paolo diacono per la prigionia è captivitas che spesso ha proprio una connotazione di prigioniero di guerra hodgkin che ha scritto l'imponente opera in più volumi italy and her invaders propone invece un'interpretazione di captivitas sì certo sempre legata all'ambito bellico ma totalmente diversa secondo lui infatti droctulfo sarebbe piuttosto stato catturato dai romani durante un qualche episodio bellico ovviamente a noi ignoto e durante la sua prigionia forse ravenna avrebbe covato un forte risentimento verso gli altri capi longobardi considerandoli la causa della sua cattura e ravenna avrebbe anche scoperto però la civiltà romana e la religione cristiana secondo il credo niceno legandosi così in modo particolare a san vitale rimanendo affascinata dal punto dal mondo romano da decidere di voler far parte di quel mondo e di sposarne totalmente la causa ovvio è impossibile stabilire quale sia la verità o quale di queste versioni sia quella più vicina al vero se mai sono vicine al vero naturalmente ciò che sappiamo per certo è che droctulfo oltre a considerare ravenna la sua nuova patria come dice il suo epitaffio diviene uno dei maggiori combattenti per l'esarcato d'italia nonché un ferocissimo nemico dei longobardi tanto da meritarsi l'appellativo di vastato regentis sue ovvero distruttore del suo popolo la prima impresa di droctulfo come riportato nel suo epitaffio è la presa di brescello un insediamento sul po attualmente in provincia di reggio emilia che gli italiani 70 80 del sesto secolo costituiva una punta molto avanzata del territorio dell'esarcato in mezzo ai nuovi domini dei longobardi brescello costituiva un importante nodo strategico poco distante da città come parma piacenza e modena nonché vicino all'antica via emilia non è noto quando il duca svevo prende brescello le interpretazioni variano dal 575 76 addirittura i primi anni 80 del sesto secolo e da qui droctulfo del quale non è del tutto chiaro se comandi solo truppe romane o anche altri longobardi unitisi alla sua causa non ci sarebbe nulla da stupirsi diviene una vera e propria spina nel fianco degli altri duchi longobardi che non riescono a scalzarlo da quella posizione fino al 584 quando finalmente i longobardi scelgono un re autari come riporta volo diacono nel 585 autari dall'assalto a brescello roctulfo si trova probabilmente in una situazione disperata senza poter ricevere aiuti dall'esarca di quel momento smaragdo che pure è un comandante molto energico attivo contro i longobardi anche per il motivo che cronicamente ravenna e l'italia in genere scarseggia di soldati e non conosciamo purtroppo i dettagli dell'assedio di brescello se non che ci riporta paolo diacono alla fine i longobardi ebbero ragione di lui ovvero di droctulfo e dei suoi alleati e li ricacciavano sulla venna brescello fu presa e le sue mura rase al suolo nonostante la perdita di brescello droctulfo non ha certo finito di fare la guerra al suo antico popolo e infatti l'azione per la quale maggiormente celebrato nel suo epitaffio che abbiamo già citato così tante volte è la riconquista del porto di classe che dopo dieci anni da quando era stata occupata era ancora tenuta dal duca faroaldo dall'iscrizione o almeno da come la riporta paolo diacono sappiamo che avviene una battaglia navale tra droctulfo e faroaldo sul badrino oggi conosciuto come padoreno che è un ramo scompasso del delta del po a nord di ravenna la localizzazione è abbastanza strana è difficile stabilire cosa esattamente in primis cosa facessero dire le forze di droctulfo ed è ancora meno semplice spiegare perché i lungobardi stessero risalendo con delle navi il badrino appunto visto che si trova a nord di ravenna sia come sia droctulfo raduna una piccola flotta per l'impresa quasi certamente composta da dromoni che sono navi agili tardantiche che possono anche risalire i fiumi ed è possibile che il duca abbia già a sua disposizione parte delle imbarcazioni da quando aveva dovuto lasciare brescello considerando che quest'ultima ci doveva essere rivelata già anche un'ottima base per la navigazione lungo il po flotta di faroaldo invece doveva essere quasi certamente composta da ancora quelle navi delle quali è riuscito a impadronirsi quando aveva conquistato classe la flotta di faroaldo deve essere invece quasi certamente composta da quelle navi delle quali è riuscito a impadronirsi occupando classe dall'epitafio di droctulfo possiamo probabilmente immaginare che le forze di faroaldo siano più grandi di quelle del duca svevo non conosciamo l'andamento esatto della battaglia anche in questo caso ma dall'epitafio sappiamo che non solo droctulfo tiene un'importante vittoria ma che probabilmente dal badrino esce nell'adriatico sorpassa la renna puntando verso sud e riconquista classe rendendola all'impero il suo epitafio così recitava mentre faroaldo occupava classe con la frode per vendicarla droctulfo prepara armi per la flotta e con pochi navigli combattere sul fiume badrino e vince contro le ben più numerose navi dei longobardi con la riconquista di classe droctulfo probabilmente acquisì un enorme prestigio per essi romani che ora sicuramente ne riconoscevano le indubbie doti militari e l'assoluta fedeltà alla causa imperiale infatti anche uno dei pochi longobardi al servizio dell'impero che non farà mai un volta faccia non avrà mai un ripensamento per nessun motivo almeno da quanto sappiamo e anche in questo caso è l'epitafio come lo riporta paolo diacono a essere la fonte più eloquente in merito amò sempre le insegne del popolo romano per amor nostro sprezzò gli amati genitori reputando che qui ravenna fosse sua patria poi sostende con forza le sorte delle insegne romane cristo gli ed è da tenere il primo vessillo grazie alla sua fama e alle sue imprese a favore dell'impero nel 586 i romani decidono di inviare droctulfo in un teatro bellico del tutto diverso dall'italia per sfruttare le sue abilità contro gli avari che in quel momento imperversano a sud del danubio fino alla città di alienopoli la situazione in traccia è davvero di emergenza gli avari nonostante abbiano fallito nel prendere d'assalto le città di dioclezianopoli filippopoli e alienopoli hanno messo le mani su alcuni ufficiali dell'esercito romano casto e ansimuth nella fattispecie notare i nomi uno dei due nomi ha certamente un nome di origine romana casto l'altro chiaramente indica che pur trattandosi di un ufficiale romano l'origine se non sua dei suoi genitori doveva essere straniera una cosa di certo non inusuale nell'esercito romano di quasi qualunque epoca dalla tarda repubblica in avanti la cattura di questi ufficiali aveva tirato sull'imperatore maurizio tiberio l'ira e gli insulti del popolo che attribuivano a lui la colpa e così l'imperatore diede l'incarico di ricacciare gli avari una volta per tutte al suo generale giovanni mistacon che è un curioso soprannome che si potrebbe tradurre molto letteralmente come il mustacchione o il baffuto e questo perché ci viene detto da una fonte ovvero teofilatto simocatta che portava la barba alla gota ovvero i baffi come ipostratego ovvero come comandante in seconda di giovanni mistacon è proprio droctulfo delle sue geste in traccia che nell'epitafio sono a malapena accennate ci racconta in modo più preciso lo storico che abbiamo appena menzionato teofilatto simocatta che lo descrive così drocton era longobardo di stirpe un combattente molto coraggioso e una poderosa forza in guerra loctulfo giovanni mistacon guidano l'esercito del quale non abbiamo assolutamente alcuna informazione ma avrete notato che è una costante delle fonti di questo periodo dicevamo lo guidano fino ad alleanopoli che è assediata proprio dagli avari questi ultimi abbandonano l'assedio e si preparano a combattere per il giorno successivo degli scarni dettagli della battaglia che avviene tra romani e avari sappiamo per certo che non solo i romani sono vittoriosi sul campo ma che lo sono proprio grazie a droctulfo che guida una delle ali dello schieramento imperiale e tra l'altro utilizzano una tattica che è descritta perfettamente nel manuale militare proprio dell'imperatore maurizio tiberio ed è indicata come una tattica tipica degli avari così descrive teofilatto simocatta quindi nello scontro con i barbari i romani furono vittoriosi e rivoltarono il combattimento a loro favore quando l'ipostratego drocton supera una strategia al nemico infatti con una finta fuga la sua ala diede l'impressione al nemico di stare fuggendo come se romani avesse avuto paura di combattere il nemico ma successivamente egli si voltò all'inseguimento raggiunse la retroguardia dei barbari e massacrò quelli che incontrava e questa è l'ultima notizia certa che abbiamo di droctulfo perché così come della giovinezza delle origini del personaggio non sappiamo nulla di certo altrettanto poco si conosce degli ultimi anni di questo comandante longobardo una possibile molto tardiva testimonianza di droctulfo datata a più di dieci anni dopo gli eventi di alienopoli emergerebbe da una lettera di papa gregorio magno datata al 598 questa missiva è a tutti gli effetti una lettera di raccomandazione indirizzata a gennaio patricius afriche ovvero quello che noi chiameremo l'esarca di cartagine o l'esarca d'africa al quale viene raccomandato l'attore della lettera che è proprio droctulfo in questo caso scritto come droctulfus e non come drocton unico caso però nelle fonti che abbiamo incontrato droctulfo ci viene descritto come proveniente dai nemici dell'impero la dicitù a latina dice de hostibus ad rumpublican veniens ora quest'ultima notazione è soggetta a diverse interpretazioni perché infatti da una parte potrebbe indicare il cambio di schieramento che era avvenuto per ormai vent'anni prima dall'altra potrebbe indicare una tappa noi sconosciuta della carriera militare di droctulfo non sappiamo quale potrebbe aver partecipato a un'altra campagna militare potrebbe essere rimasto più a lungo in traccia potrebbe esserci stato un momento in questi dieci anni in cui è ripassato con i longobardi e poi è ritornato all'impero anche se sembra molto improbabile insomma del resto non siamo nemmeno sicuri che sia lo stesso droctulfo però il fatto che l'unico personaggio con tale nome che si conosca sia proprio lui fa propendere per questa ipotesi e questa è davvero l'ultima informazione più o meno sicura che si ricava dalle fonti perché poi non sappiamo né quando sia morto né per quali motivi né dove e nuovamente abbiamo l'unico accenno dal suo epitafio infatti da questo pare vincersi solamente che sia infine morto lontano dalla venna ma che vi sia poi stato tumulato a cura di un certo sacerdote giovanni del quale probabilmente droctulfo doveva essere amico infine paolo diacono ci informa del luogo dove droctulfo viene sepolto e ai giorni in cui scrive lo storico longobardo che ricordiamo scrive circa nel periodo del regno di carlo magno più di due secoli dopo ecco ai giorni di paolo diacono era ancora visibile il luogo di sepoltura di droctulfo che era insieme al suo epitafio davanti alla chiesa di san vitale il martire che forse droctulfo dalla sua romanizzazione aveva sempre considerato il suo santo protettore e che sempre forse gli aveva dato la forza di combattere i nemici di quella che era divenuta infine la sua nuova patria bene la puntata di oggi finisce qui spero che scoprire questo affascinante personaggio dell'italia degli esarchi dell'italia del sesto secolo vi sia piaciuto se la puntata è stata di vostro aggredimento vi invito a iscrivervi al canale lasciare un mi piace nonché ad attivare la campanella per restare sempre aggiornati sull'uscita di tutti i nuovi contenuti sul canale detto questo alla prossima